buongiorno a tutti allora quello che stiamo vedendo il canale cavur come potete vedere qui questa insegna qui cautenza canali cavur ecco questo il canale cavur io adesso mi trovo a crova dove c'è stata appunto questa manifestazione molto molto bella molto rappresentativa ecco lì vedete a nord diciamo così adesso vi do tutte le informazioni del caso è a sud per modo di dire perché qualche informazione allora il canale cavur fu costruito dall'ingegnere noè sotto il presidente del consiglio del regno di sardegna all'allora appunto camillo benzo conte di cavur e fu costruito in tre anni del 1863 1866 e circa le lungo circa 83 chilometri parte dal po che in a chi basso zona a chi basso quindi siamo in provincia di torino attraversa tutte le campagne vercellesi e fino ad arrivare a novara quindi attraversa anche le campagne di novara fino a concludere il suo il suo cammino nel ticino in zona città di galliate che a nord di novara per questo ponte qui questo scusate questo fatto un po di confusione questo questo fiume qui sono stati costruiti 101 ponti vedete lì in fondo appunto per attraversamenti vari insomma no delle delle strade delle campagne eccetera qui ce ne sono altri in fondo non si vede benissimo potrei ingrandire ma eccolo la faccia vedere vedete questi ponti qua ce ne sono ben 101 vediamo un po più giù la corrente è a scendere in questo caso no quindi alle mie spalle abbiamo chivasso per intenderci e fronte a me vedete quel ponte abbiamo galliate no dove doveva a riversarsi e niente fu fu costruito per per le campagne appunto che attraversava soprattutto il vercellese per le risaie perché vercelli e la patria la patria del del riso c'è anche novara che un po produttore di riso ma dalle mie ricerche ho visto che vercelli è unica nella diciamo che che in vetta ecco primo posto del delle città vercellese tutte le campagne del vercellese sono al primo posto come produzione di riso ecco era soltanto dire questo questo qui sono i progetti no strutture e di una volta in tre anni fatto tutto insomma è molto molto bello da vedere perché fa venire in mente no un po la storia di una volta ecco bene io vi lascio vi lascio solo aggiungere che appunto il partendo da torino e da torino da chivasso provincia di torino passando dalla dal vercellese e quindi santià passa anche da crova dove mi trovo adesso una particolarità di crova che il paese è attraversato diciamo per così dire spezza metà no e spezzato a metà dal 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 fiume quindi il fiume il canale il canale scanale o fiume insomma il canale che artificiale quindi non è un fiume il canale attraversa questo questo bel paesino accogliente e poi passano da da cameri in provincia di novara fino ad arrivare a galliate bene io vi lascio guardate che bello no il nostro piemondo oggi c'è anche una bella giornata di fare una bella passeggiata e vi lascio al prossimo video buon divertimento ciao